Allora, caro Presidente, c'è letto una comunicazione del Sindaco, però come dovresti sapere, come dovrebbe sapere il Sindaco e come sicuramente sa il Segretario Comunale, che tra l'altro ha scritto la 267 del 2000, articolo 46,4, riporta esattamente che il Sindaco deve comunicare i motivi delle punizioni o delle dismissioni degli assessori, motivandoli al Consiglio Comunale. Dopodiché, come dice sempre la stessa legge, i decreti devono essere singoli, ogni assessore deve avere il suo decreto. Caro Sindaco, tu hai fatto un comunicato alla stampa sabato sera alle 8.35 con l'esattezza, dichiarando, probabilmente dicendo la solita bugia, lui si è arrivato a dire, dicendo che avevi emesso i decreti nel poveriggio, manco a farla apposta, lunedì mattina non era protocollato niente, ma poi è uscito un unico decreto, anzi non si può chiamare decreto, un unico elenco protocollato alle 12.50 di sabato, perché il sabato pomeriggio gli uffici erano chiusi e tu non hai potuto fare nessun decreto. Chiaramente questa è una delle tante cose. Quello che ti chiedo, visto la tanto sbandierata trasparenza, legalità, ti faccio presente che in queste nuove nomine, così comunicato sui giornali pubblicamente all'attenzione di tutti, tu hai letteralmente buttato fuori un partito politico addetta chiaramente del partito politico. Invece adesso vedo qui tranquillamente, seduto in aula, i due consiglieri eletti con questa lista, anche se uno giustamente era già uscito prima e faceva parte del gruppo misto, non è utile che partire mai, perché è una pregiudiziale sulla tua comunicazione, quindi sono in piena regola e purtroppo non dovete sopportare, perché oggi preparatemi le merendine, il peino e tutto, perché ci portiamo domani, perché dobbiamo lavorare, abbiamo potuto lavorare, dopo cui dico non c'è una lista perché tutti sanno alla città è nota che il nuovo assessore tecnicamente è in vuota al consigliere Casolaro, quindi giustamente tu hai buttato fuori un partito per prendere un listo, ma la cosa più grave, vedi caro sindaco e la cittadinanza deve notare e deve vedere è che tu non hai il tuo partito, il tuo partito in questo momento è assente con tre consiglieri comunali e sono una bella vuota che vanno a fare una posta, sono i primi tre eletti e non hai indicato l'assessore guida PD, questo molto probabilmente è perché la tua maggioranza politica ormai è andata direttamente a destra, visto che abbiamo la conferma degli assessori tranquilli, quindi abbiamo una bella giunta di destra forse centro, non più una giunta a guida PD, perché l'unica è un'altra cosa che sei rimasto tu, non sappiamo se sei ancora PD o meno, però diciamo che visto l'andamento potresti essere tranquillamente accoppiato a qualche grosso esponente e ti volevo dire questo, in questa mancanza il segretario mi potrà correggere, io mi scuso con gli assessori ma non so a che titolo sono presenti, perché la nomina non è assolutamente legale e quindi non so perché sono presenti attualmente in quanto ufficialmente dimissionari fino al nuovo decreto, questo diciamo per quella comunicazione che hai fatto, per quanto riguarda invece il capo all'ordine del giorno e quindi la sessione straordinaria, ti prego caldamente da adesso e nel proseguo dei lavori a fare quello che non abbiamo fatto fino ad oggi, cioè voglio essere eletto, pretendo come consigliere comunale, che tu presidente mi legga tutte le proposte di delibere e tutti gli allegati, perché è previsto, in quanto carissimo presidente il sindaco va sempre con la mano così, che giustamente non capisce, siccome abbiamo avuto gli atti di ritorno, siccome abbiamo avuto gli atti non in tempo, non in tempo per leggerli, perché non ci sono stati cinque giorni, tanto è vero che la proposta 144 relativa alla discussione che faremo dopo sui debiti fuori bilancio è arrivata ieri a Luna, quindi quei cinque giorni, noi dovevamo avere quindici giorni, ma ce ne hai dati cinque, ci siamo accontentati, ma quantomeno nei cinque giorni ci dovete dare le carte, siccome le carte non ce le hai date, siccome le carte non sono presenti in questo momento, non ci sono ancora tutte le carte, perché dei debiti fuori bilancio, caro presidente, caro segretario, noi abbiamo un'unica proposta, devono essere 104 proposte nominative, non si può votare un'unica proposta con 104 nomi, dopodiché avete cacciato il cilindro dal cappello e è arrivato questo parere dei revisori alle 14.47, peccato che nella proposta del giorno 12, perché quella proposta nonostante arrivare ieri del giorno 12, c'è scritto che già c'erano i pareri, purtroppo c'erano i pareri non favorevoli, quindi questa proposta che valore ha? Non favorevole o favorevole? Quindi decidetevi voi quale sono le carte che andate a votare e come le andate a votare. Gentilmente ti richiamo alla competenza del Consiglio, grazie.